Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Approvato lo schema di bilancio, la Giunta ha approvato il bilancio che poi il 2 marzo verrà portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Un bilancio molto impegnativo, un bilancio che ha visto un contenimento dei costi in relazione a diverse variabili che hanno impegnato, in particolare gli uffici finanziari, a pareggiare il bilancio. Parliamo soprattutto di costi energetici, di aumento, anche di aggiornamento dei rinnovi contrattuali dei nostri dipendenti previsti dalla legge e naturalmente tutti i costi che vengono appesantiti dall'inflazione che sappiamo ma sta galoppando oltre il 10%. Nonostante queste difficoltà abbiamo inteso con notevoli sforzi presentare un bilancio che non aumenta le tasse, non aumenta le imposte, tiene invariate le tariffe dei servizi e apporta delle linee di indirizzo secondo noi molto importanti per portare avanti i lavori di quest'anno in particolare della nostra amministrazione comunale insieme ai nostri uffici. In particolare le novità riguardano la nuova impostazione delle tariffe per i servizi scolastici. Abbiamo voluto aumentare, nonostante le difficoltà economiche, la compartecipazione comunale perché noi riteniamo che questi servizi siano fondamentali per le nostre famiglie, soprattutto per le famiglie con figli e anche a fronte di aumenti importanti, pensiamo agli 80.000 euro in più per il costo dei trasporti scolastici. Abbiamo ridefinito le aliquote inserendo criteri di maggiore equità, di progressività con più fasce ISEE e per quanto riguarda la tariffa trasporti anche degli sconti ulteriori dal secondo figlio in poi. Quindi una ricalibratura, una ridefinizione delle tariffe scolastiche secondo il principio di maggiore equità per le nostre famiglie. Andiamo avanti nonostante i limiti imposti dal bilancio dei maggiori costi anche col piano dell'assunzione. Riteniamo fondamentale, oltre alla riorganizzazione della macchina comunale che ci vede impegnati dal primo giorno di mandato, naturalmente rafforzare le nostre aree, quelle aree che abbiamo ridefinito, rafforzando contestualmente il capitale umano, quindi le persone e le competenze che ci aiutano, aiutano l'amministrazione nel perseguimento degli obiettivi di mandato. Cinque posti di istruttore amministrativo contabile categoria C, un posto di istruttore direttivo categoria D, per quanto riguarda il progetto di rafforzamento della nostra polizia locale, un istruttore categoria C e poi un ufficiale tenente di categoria PLB, questo appunto per il nostro comando di polizia locale. E poi per quanto riguarda invece le opere pubbliche e l'importante impegno soprattutto del 2023 di realizzare diverse opere, alcune di queste veramente impegnative, che sono anche il risultato dell'impegno che c'è stato da parte di tutti gli uffici nell'intercettare risorse sia del PNRR sia della Regione e dello Stato, andremo a rafforzare l'ufficio opere pubbliche, in particolare la convenzione del nostro gruppo proprio in funzione di un maggior rapporto della struttura tecnica nella fase esecutiva delle opere. Altro aspetto caratterizzante di questo bilancio è una scelta per agevolare ulteriormente i DEORS, l'attività della ristorazione, i bar del centro delle nostre strade, confermando il 40% di sconto per le installazioni temporanee, sconto che si somma ad altri sconti già previsti e viene ampliata la portata delle riduzioni in particolare per quello che riguarda le installazioni permanenti. Con queste ulteriori agevolazioni il Comune di San Vito risulta in provincia, in frio occidentale, tra i comuni con le tariffe più basse per il settore, in particolare in riferimento a quei comuni che sono simili al nostro per caratteristiche di dimensione e socio-demografiche. Riteniamo fondamentale e caratterizzante anche per la nostra azione amministrativa questo tipo di interventi perché riteniamo che la vitalità delle piazze, delle nostre strade, dei nostri centri debba sempre di più rafforzare quella sinergia tra il Comune, l'istituzione naturalmente, le associazioni con le quali si organizzano tanti eventi e tante manifestazioni e naturalmente tutti i soggetti privati, in particolare gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali del nostro centro e delle nostre strade. Premio Anci Compa. Sono molto soddisfatto e comunico questa soddisfazione a tutti voi che il nostro Comune, il nostro ente, è stato insignito del premio Governance, sia interna che esterna, finalizzata a miglioramenti nella identificazione e definizione delle strategie di sviluppo dell'ente, del territorio e della comunità. Abbiamo ricevuto il primo premio proprio da Anci e Compa, che sono due importanti soggetti a livello regionale, è un riconoscimento che evidenzia indiscutibilmente il grande lavoro fatto, svolto nell'ultimo anno in termini di riorganizzazione della macchina comunale, ma soprattutto mette in luce il percorso che porta a rafforzare quei modelli di governance che creano quel connubio tra la parte amministrativa propria degli organi esecutivi e la parte operativa propria delle aree dei servizi e questo sicuramente è un riconoscimento che va nella logica, segue quel percorso di maggiore innovazione, di maggiore efficacia del lavoro del nostro Comune, ma soprattutto anche della capacità di perseguire quegli obiettivi di mandato propri della parte politica che devono vedere chiaramente poi i progetti, devono vedere la propria concretizzazione grazie al lavoro delle aree. Oltre a questo, naturalmente sottolineiamo che il nostro Comune ha intercettato oltre 350 mila euro di fondi dal PNRR per la transizione digitale e queste risorse andranno a inserirsi proprio in questa progettualità che si pone l'obiettivo ultimo di migliorare i servizi pubblici, servizi pubblici per i nostri cittadini naturalmente innovativi e che permettono a tutti naturalmente di avere un rapporto diverso con l'amministrazione, sicuramente più veloce e maggiormente adeguato all'attese di tutti voi. Mi sento naturalmente di ringraziare per questo importante riconoscimento Federica Del Fre, consigliera delegata al bilancio, Ericko Stan, assessora all'innovazione, quindi coloro che della parte amministrativa hanno operato insieme al sottoscritto e alla giunta per dare questo importante impulso, il segretario comunale Musto e tutti i responsabili di area e naturalmente un grandissimo ringraziamento a tutti i nostri dipendenti, dipendenti del Comune di San Vito Tagliamento e dell'ambito perché nonostante le difficoltà che viviamo tutti operano quotidianamente con grande passione, determinazione e entusiasmo al servizio di tutti voi. Eventi del fine settimana. Oggi alle ore 18, ci troviamo proprio qua sotto per ricordare la figura di Paolo Sarpi, le motivazioni di un centenario, un incontro sulla figura del Sarpi in sala consigliare con Angelo Battel, Stefania Miotto, Pier Giorgio Scrippa. A conclusione dell'evento i nipoti di Guido Garlatti, presidente della società operaia dal 1935 al 1940, riconsegnano alla cittadinanza la lapide ritrovata, un momento molto importante per la nostra comunità. questa sera dalle 18 alle 20 all'auditorio parrucchiale Concordia ci sarà l'incontro nella programmazione di guardare oltre alla demenza, dare speranza alle famiglie, un incontro con la dottoressa Anna Paola Prestia, neuropsicologa fondatrice della start-up Sofia, un incontro promosso da diverse associazioni, in particolare dall'ambito tagliamento, l'ambito sociale dell'attagliamento. Sempre questa sera all'ora 21 all'auditorio Unzotti il nostro cinema, i migliori giorni, ingresso 5 euro, i biglietti sono acquistabili in auditorio o come già sapete online sul sito vivaticket.com. Domani sabato 18 febbraio un'importante, rilevante inaugurazione alle ore 11, a cura del prof Giancarlo Paoletto, tranquillo Marangoni, una vita inciso, un'inaugurazione di una mostra importante che celebra la tecnica dell'axilografia, siete naturalmente tutti invitati, oltre che la inaugurazione, andare a visitarla il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. La mostra durerà fino al 19.00 marzo. Mi sento naturalmente in dovere di ringraziare determinati soggetti che hanno collaborato con noi, il comune di Pozzuolo del Friuli, il gruppo ricerche storiche Aghe dal Pozzo di Aldo Marangoni, ai collezionisti l'architetto Lodovico Tramonti, Deni e Severino Danelon e naturalmente al gruppo volontari della cultura e a tutta l'area vitalità del comune di San Vito. Sempre domani alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di San Vito Gezzo, un'importante manifestazione ormai tradizionale della nostra città e sempre domani alle ore 18 in sala consigliare Forsi il Vint, la presentazione del libro di poesie di Francesco Indrigo, mentre domenica torna nelle nostre piazze, nelle nostre strade, un grande evento per grandi e vicini, il Carnevale a San Vito. Partenza della sfilata dei carri dall'ora 14 dal piazzale della stazione per poi proseguire via stazione via Malteo fino all'ingresso in Piazza del Popolo. Poi dalle ore 14 in Piazza del Popolo avremo un DJ che naturalmente suonerà e farà ballare tutti quanti, attività per i più piccoli in collaborazione con APS Teatro e Movimento, al nostro momento dell'officina del Bozzo, alle ore 14 e 30 in Piazza del Popolo, ci sarà l'ingresso dei gruppi mascherati e dei carri allegorici con l'inizio della festa con musica, animazione e tanto divertimento. La festa però continua e continuerà martedì 21, martedì grasso, dalle ore 10 alle 12 e 30, attività di giocoleria con palloncini, animazione per i bambini, sempre nella nostra piazza. Naturalmente tutti i genitori, portate i vostri figli perché sarà un bel ritorno del Carnevale in Piazza a San Vito. Sempre martedì, dalle 14 e 30 alle 16 e 30, laboratorio di maschere e giochi, naturalmente un altro evento che si collega all'attività del Carnevale. Un grande ringraziamento naturalmente va alla Proloco, che nonostante le difficoltà di quest'anno e anche per il riavvio dell'attività ha lavorato egregiamente in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un grande ringraziamento alla Proloco, al Presidente Vallario, al Consiglio Direttivo e a tutti i volontari per il supporto costante all'azione e all'attività delle nostre comunità. Lunedì 20 febbraio, ore 17 in Biblioteca Civica, invece ci sarà l'evento, l'iniziativa Lettura ad alta voce per i bambini da 6 a 10 anni. Martedì 21 febbraio, Io vivo altrove, un altro spettacolo cinematografico, all'ora 20 e 30 all'auditorio Mazzotti, ricordo i biglietti 5 euro sia in auditorio, prima dello spettacolo oppure dal sito vivaticket.com e mercoledì 22 febbraio, sempre un altro evento cinematografico, Gigi la legge, ore 20 e 30 sempre all'auditorio Mazzotti. Grazie e buon fine settimana a tutti.